Devi sbrigare una pratica con la tua auto e non vuoi perdere tempo. Studio Carlea, da oltre 30 anni al servizio dell'automobilista. L'ultimo maxifurto riaccende i riflettori sul problema sicurezza nella zona Asi di Ponte Riccio. A quanto pare non basta la vigilanza, l'ingresso principale e le unità dell'esercito che sorvegliano la cosiddetta area vasta. L'altra notte infatti i balordi hanno messo a segno un colpo nell'azienda APS SRL che si occupa di prodotti surgelati. La banda si sarebbe introdotta scavalcando un muro laterale posto nei pressi dell'impianto stir. Una volta dentro hanno forzato la porta e la cabina elettrica e, staccando il cavo di alimentazione principale, hanno agito aprendo tutti i tombini e sfilando i cavi di rame. Non contenti, hanno poi sfondato il vetro di una finestra trafugando altri fili ed interruttori dal quadro elettrico. Il danno stimato ai titolari è di circa 60.000 euro, tra la merce che si trovava nelle celle frigorifere ed i costi di ripristino dopo i 100 metri di rame trafugati. Adesso è tutto fermo, in attesa dei lavori per riportare l'energia elettrica. I balordi, circa 10, sono stati scoperti anche dal custode di una vicina azienda. L'uomo, un extracomunitario, ha allertato le forze dell'ordine ma ha rischiato l'aggressione ed ha subito danni alla sua vettura. Episodio gravissimo è che non deve restare isolato, afferma Angelo Punzi, presidente degli industriali giuglianesi. Negli ultimi anni abbiamo fatto tanti progressi ma non vogliamo ripiombare nell'incubo. Punzi chiede poi un impulso al progetto di videosorveglianza bloccato da circa due anni. Sì, al momento siamo fermi perché questo nell'arco di due mesi è il secondo furto di rame di cavi elettrici che abbiamo subito con un notevole danno economico all'azienda. Quasi intorno ai 50-60 mila euro comunque di merce. Di merce, nonché poi i danni economici dal punto di vista logicamente anche della manutenzione, del ripristino degli impianti e così via di sempre. E questo per una piccola azienda è un danno a mio avviso abbastanza rilevante. Ed è una cosa incomprensibile che succede in un consorzio ASI di Giuliano che dovrebbe essere, secondo me, tutelato, dovrebbe essere salvaguardato perché è l'unica area, diciamo, industriale che, ahimè, comunque porta comunque produzione e dovrebbe occupare anche un po' di occupazione. Noi stiamo facendo tutto, noi stiamo mettendo tutte le precauzioni, diciamo, necessarie. Per l'azienda giunta a Giuliano nello scorso gennaio è il secondo RAI di poco più di un mese e si accende la polemica sulla comunità nomade della zona. Ma avendo comunque un campo nomade qua dietro alle spalle, secondo me, diciamo, le precauzioni a volte sono anche insufficienti. Le forze dell'ordine sanno quello che debbono fare, secondo me è un problema politico. Il politico deve essere comunque risolto perché queste persone dovrebbero, non debbono più entrare, diciamo, nel consorzio ASI, altrimenti qua dentro nessuno più fa investimenti. Ahimè, io sto pensando anche eventualmente in un futuro di spostarmi. Grazie. Buongiorno.